un caro saluto un caro saluto a tutti da diego fusaro mentre la new left dell'arcobaleno di ellish line mentre i sindacati alla landini sono intenti a combattere il fascismo sulle piazze di firenze capita che la lagarde annunci la lagarde vestale del neoliberismo targato unione europea made in bruxelles annunci che è probabile un rialzo di 50 punti a marzo dove di fatto si sottolinea come l'ordine neoliberale continua a colpire spietatamente i ceti medi e le classi lavoratrici è ancora troppo presto per dichiarare la vittoria sull'inflazione lo ha affermato la presidente della bce christine lagarde in un'intervista al gruppo editoriale spagnolo bosento secondo cui stiamo facendo dei progressi ma c'è ancora molto da fare e insomma si parla di un aumento del del tasso ecco dice molto probabile rialzo 50 punti a marzo leggo sul sole 24 ore che è l'osservatore romano della globalizzazione capitalistica e quindi è indubitabile quando dà queste notizie non si può mettere in discussione quindi è molto probabile che aumenteremo i tassi di interesse di 50 punti base ha detto la signora lagarde ecco quindi vedete che questa questa tendenza questa tendenza ci porta verso una direzione ben nota che è quella del massacro organizzato dei ceti medi e delle classi lavoratrici e intanto le sinistre fucsia non hanno nulla da eccepire i sindacati non hanno nulla da dire perché loro sono presi dalla lotta contro il fascismo e quindi combattono contro il manganello fascista contro lo spettro del fascismo e non combattono contro il nuovo manganello quello del neoliberismo quello finanziario che anzi sostengono perché sono loro a dire ci vuole più europa no non sono loro forse a dire ci vuole più europa ma come se l'europa è ciò che cagiona la sofferenza dei lavoratori dire ci vuole più europa è come dire ci vuole più sofferenza dei lavoratori come si può combattere il male chiedendone di più bisognerebbe dire meno europa bisognerebbe dire più difesa dei salari più difesa della sovranità nazionale di concertazioni sindacali di politiche welfare istiche mediate dallo stato sovrano nazionale dalla potenza del politico ma così è la sinistra fucsia neoliberale ormai organica e interscambiabile con la destra bluette neoliberale fa sempre l'interesse della visione dominante lo sappiamo e usa l'antifascismo come alibi per dire che loro sono contro il potere peccato che il potere fascista anzi per fortuna che non ci sia più però c'è un nuovo potere e contro questo nuovo potere non hanno nulla da dire quindi combattono contro un potere che per fortuna non c'è più per non combattere contro quello realmente esistente che come vediamo sta celebrando i suoi fasti ogni giorno che passa colpisce di più in maniera vigorosa e sonante le classi lavoratrici capite bene che è una situazione davvero orwelliana quella che stiamo vivendo che come usa dire farebbe ridere se solo non facesse piangere grazie a tutti